Un centro di eccellenza che sarà la nuova sede della scuola edile del centro paritetico territoriale. A San Vittorino a metà dei lavori è stato il presidente dell'ente Giovanni Cirillo a portare i giornalisti nei cantieri per mostrare lo stato di avanzamento dei lavori di una struttura che una volta ultimata avrà aule, un laboratorio di addestramento, appartamenti, foresteria per studenti e parcheggi. Il costo complessivo dell'intervento è di oltre 4 milioni di euro di cui 2 milioni a carico della regione Abruzzo, il resto a carico dell'ente. E' importante le attività che porta avanti la scuola? La scuola edile porta avanti innanzitutto tutta la formazione riguardante la sicurezza in cantieri, quindi quella ricontenuta nel decreto 81 del 2008. Tutto perché un operaio e sia anche un operaio che un imprenditore per stare in un cantiere edile ha bisogno di tutta una formazione che è contenuta nella legge del 2008. Dopodiché noi dobbiamo ricambiare la pelle alla scuola e farla ritornare come era quella quando è stata formata nel 1970, di reinsegnare, di insegnare i mestieri, i mestieri che tra l'altro noi notiamo sui nostri cantieri che diverse specializzazioni sono state perse. Mi riferisco ai carpentieri, mi riferisco ai muratori, a chi si lavora alla pietra, ai stessi falegnami. Vediamo che questo tipo di specializzazioni man mano si sono perse. Noi abbiamo la pretesa di reinsegnarla ai nostri giovani e ai nostri operai. Occasione per tracciare anche un bilancio delle attività svolte. Il numero di infortuni, ad esempio, grazie anche ai corsi sulla sicurezza, si è ridotto notevolmente anche rispetto al numero degli occupati. Nel cantiere più grande, l'Aquila, il ruolo della scuola è fondamentale, secondo il presidente del Lance. Ormai la scuola è in via di ultimazione, mancano pochi mesi. Un investimento molto importante che supera i 4 milioni di euro. Come sapete, questo è il cantiere più grande d'Europa, è un punto di riferimento per l'intera regione. Abbiamo 10.000 operai iscritti presso la nostra cassetile. Ma non solo, usufruiranno di questo centro. Anche gli studenti, quel protocollo di intesa che abbiamo sottoscritto all'università, faranno anche loro i corsi di formazione presso la nostra struttura.